Parliamo di un giovane portiere, Mario, che sta però, un giovane portiere italiano, che sta però per trasferirsi addirittura negli States. Romeo Paparesta, figlio d'arte e nipote d'arte, che nell'ultima stagione ha militato nella Fidelisandria e che saluto e ringrazio. Ciao Romeo, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. E allora racconto rapidamente la tua storia. Stai per prendere il volo, lo farei a fine mese per gli Stati Uniti, perché di fatto hai vinto una borsa di studio che ti assicurerà un futuro tra studio e calcio, praticamente, alla Bellevue University in Nebraska. Ti chiedo in apertura come è nata questa bellissima, sicuramente, opportunità per te. Allora è nata sicuramente per caso, sono stato contattato da un'agenzia che si chiama USA College Sport e alla fine è stata tutta una decisione che ho preso rapidamente, ma con la testa, anche con l'aiuto di mio padre, della mia famiglia, di mia madre e tutti che mi hanno supportato. Mi hanno contattato e mi hanno detto che c'era questa possibilità di ottenere una borsa di studio in America e quindi questa idea, penso a qualsiasi ragazza della mia età e con le mie ambizioni, sarebbe interessata. Quindi poi sono andato avanti con questo percorso, mi hanno contattato un po' di università e alla fine ho accettato la proposta della Bellevue University dove andrò a fine mese. Allora sicuramente è una bellissima esperienza, ti aspetta oltre Oceano. Nell'ultima stagione hai militato nella Fidelisandria come terzo portiere dopo l'esperienza in eccellenza con i Viesti e hai avuto l'opportunità di esordire, tra l'altro a livello professionistico, in Coppa Italia nella semifinale di ritorno giocata a Bolzano contro il Sud Tirol. Che cosa ti resta di quel ricordo e che ambizioni hai poi per la tua avventura negli States a prescindere dallo studio? Sicuramente è stata un'esperienza incredibile quella di esordire con l'Andrea e devo sempre ringraziare il mister di Bari e il mister di Leo che mi hanno dato questa possibilità. E sugli spalti poi c'erano anche mio padre e mio nonno quindi l'emozione era doppia e sicuramente è un'esperienza che mi rimarrà sempre. Poi sicuramente quando che mi porterò questa esperienza me la porterò sicuramente anche lì nel mio viaggio e sicuramente ho quella di dimostrare le mie capacità nel campionato americano. Hai citato tuo papà Gianluca che è stato arbitro internazionale, tuo nonno Romeo arbitro e tu perché hai scelto di fare il calciatore e non l'arbitro? È scontata la domanda. No, no, non è scontata di certo. Io penso che mio padre abbia visto comunque il percorso di mio nonno, è cresciuto vedendo le partite di mio nonno, aspettandolo a casa. Come arbitro. Io quando mio padre ero molto giovane quindi non ho avuto questa possibilità, non ho visto le partite di mio padre, non l'ho vissuta nella stessa maniera, quindi non mi sono avvicinato all'arbitro come ha fatto mio padre, quindi ho deciso di difendere la porta piuttosto che di difendere. Romeo noi ti ringraziamo per la disponibilità, ti facciamo un grosso in bocca al lupo e poi ti aspettiamo presto, insomma nuovamente in Italia, in Puglia, chissà magari per raccontare altre tue esperienze calcistiche da noi a livello professionistico. Un abbraccio e in bocca al lupo davvero per tutto. Grazie, grazie, buona serata. Ciao Romeo, presto.